...di trasferire lo Stato d'animo di questa protetta a Roma, perché questa protetta nella quale oggi abbiamo dimostrato responsabilità e abbiamo dimostrato solidità, potrebbe non essere sempre così. E rispetto a queste questioni abbiamo comunque chiesto la salvaguardia di tutto il sito e di tutti i suoi corpi di lavoro, compreso i lavoratori delle ditte terze che come sempre abbiamo sottottenuto non solo bisogno di aprire rispetto a nessun altro lavoratore. Noi non vogliamo farla troppo lunga, credo che sia questo il messaggio che dovevamo dare, il messaggio che avevamo detto insieme di portare al pregetto, il messaggio che crediamo ha ricevuto e ha capito anche dallo Stato d'animo, rispetto a altre questioni, rispetto alla Costituzione della nostra iniziativa, io ho tre ultime questioni. La prima, il ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno fatto sciopero alla loro monocrità, al loro senso di risposta. La prima, il ringraziamento a tutti i lavoratori che hanno fatto sciopero alla nostra iniziativa, la prima manifestazione è il segno che ci siamo riusciti. Questa manifestazione di stamattina, noi la concludiamo qui, dandoci appuntamento alle altre iniziative che abbiamo trovato. È il programma un'iniziativa di sciopero, anche per questa sera. Noi i lavoratori di secondo scioperoanno dalle sette alle dieci, davanti agli aggetti dell'Aspe. Sarà portato il messaggio di solidarietà della realtà da calcio, insieme alla situazione privi della strada. Ringraziamo anche il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente, il Presidente. Oggi ci sentiamo di scrivere oggi a RSU Ex-Prederisa un comunicato di quello che ci siamo letto. Tieni con le istituzioni, se lo sapete, se l'abbiamo letto nel contatto, è di quello che abbiamo oggi detto al governo. Oggi pomeriggio, domani distribuiremo questa informazione. La direzione è che la prossima iniziativa, il non pancheranno, se non avremo le risposte, come ci siamo detti, per farne una direzione della salvaguardia di questo sito produttivo. La manifestazione si conclude. Lo sciopero termina a mezzogiorno in calcio, invidiamo i lavoratori che hanno fatto sciopero a rientrare in fabbrica e avremo modo di rivedersi per riprogrammare quelle risposte, le iniziative, assortendo di questa partenza sulla quale, ripeto, dobbiamo provare la solidarietà, la collaborazione, l'appoggio, il sostegno di tutti. Grazie.